... No, 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 non fa' attenzione. No, no, non fa' attenzione. No ragazzi, dai! Nossa giornata, dai! Stefano, 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 fatti sentire. Stefano, sei l'arbitro, hai un giocatore. Sei l'arbitro, hai un giocatore. Ti ha78 to sports. Cola, t employee, c'è un giocatore. Fibra, u'e ,I 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 , applies ,All Stefano, cari ragazzi! Dai Stefano, dai! Dai, 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 dai! Ragazzi, non devi caricare la tiposeria, i ragazzi! Ragazzi, dai, 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 dai! Ragazzi, dai, 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 dai! Ragazzi, dai, 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 dai! Ragazzi, dai, dai, dai! Grazie. 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 Vai, va bene. Vai, va bene. È colpa del mister. È lui. Grazie. 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 Grazie a tutti. Vi fa elevate. Oh, bak, adesso devi vincere da zee Commentatoro. Grazie. 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 Grazie